www.feyyaz.com Chi sei? Che vuoi? Sono Armando, il figlio... Roberto! Chi è? Uno che dice di essere tuo figlio. Mio figlio? Ma quale figlio? Non è vero, io non ho figli! Mamma... Roberto è mio figlio! Calma mamma, vai camera tua adesso. Tu non fare caso, non c'è da fare. E adesso meglio che tu vai. Mamma... Tu vuoi sua pensione, dillo! Dillo che vuoi sua pensione! Ma quale pensione? Chiudi! È un ladro, un assassino! Va via, se no viene altro hickus!